Sì, però questi giochi tattici militari sparatutto in prima persona sono tutti uguali COD, Battlefield, God Simulator, non va bene, ci vuole innovazione La noia proprio Oh mio Dio Oh mio Dio Eurica Lo devo trovare, lo devo trovare, sono sicuro che c'è, lo devo trovare da qualche parte L'ho trovato L'ho trovato! Un robottino che pulisce la casa Simulator 2013 Il realismo degli oggetti, la casa, è una roba assurda E tutti lì a parlare di Assassin's Creed, di Watch Dogs, di sto cazzo di Titanfall, ma basta Ma parliamo di qualcosa di figo veramente No, 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 la porta, no, la porta, no, la porta, no, la porta, no, gira, gira Oh Dio santo Questo è il futuro dei giochi indie E ci passa attraverso, un classico Non mi sono mai sentito così in pace con me stesso giocando a questo La mia vita è completa ora Il mio tesoro Grazie a tutti